Questo impianto, sono state sollevate alcune perplessità sul percorso che la provincia ha scelto, un percorso di project financing, per cui abbiamo un soggetto privato che sta proponendo un'idea di progetto dell'impianto e ho detto che questa era una delle strade da seguire, la provincia ha ritenuto opportuno seguire questa e a noi va bene, l'importante è che si faccia un impianto che funzioni e che sostenga la raccolta differenziata.